Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Oggi va un pochino meglio per quanto riguarda l'ascesso, se sta un po' più sgonfiando, quindi riesco a fare un video magari frontalmente, al limite voi questo lo cancellano e non lo vedrete se in realtà c'è una faccia gonfissima da criceto, ma a parte tutto, questo qui è il video del giorno dopo, un video del giorno dopo della partita Parmaspal e anche se è il giorno dopo ragazzi brucia, brucia ancora, brucia tanto. Vi lascio comunque l'articolo di OneFootball su tutte le statistiche della partita di ieri, ovviamente lo trovate qui sotto in descrizione da scaricare. Parliamo della partita ragazzi in maniera un po' più tranquilla, più pacata e con calma perché ieri ovviamente è una reazione a caldo quello che avete visto, uno sfogo non tanto verso comunque la squadra eccetera che ragazzi stiamo facendo un campionato fantastico, io non posso essere arrabbiato con i giocatori dopo un campionato del genere a 28 punti dopo 21 giornate. Sono arrabbiato ovviamente come sarebbero tranquillamente arrabbiati anche i calciatori, cioè se fossi un giocatore, se fossi un calciatore del Parma sarei stato arrabbiato allo stesso modo. Questo che mi avete visto ieri, cioè farsi recuperare così dopo una partita praticamente perfetta e dominata per 70 minuti, una delle migliori partite probabilmente del Parma perché forse uno dice ma dominata cosa? Che c'aveva il 70% il possesso palla, la spalla, vi ripeto, dominata dal punto di vista in realtà delle occasioni mentale, cioè la spalla era praticamente cotta, cioè voi tifosi della spalla magari avete visto la partita, concorderete con me che prima dei cambi di Valoti e di Antenucci la partita era praticamente finita perché la spalla non aveva mai avuto un'occasione vera e propria, il pallino del gioco in realtà ce l'aveva sempre, il possesso palla era della spalla ma il pallino del gioco ce l'aveva comunque sempre il Parma, ogni volta che il Parma attaccava c'era un'occasione importante, insomma ragazzi io pensavo addirittura che la partita finisse in goleada sinceramente. Poco prima degli ingressi appunto di Antenucci e di Valoti c'era stata quell'occasione di Barillà, un'occasione che non poteva sbagliare, io in quel momento quando Barillà ha sbagliato quel tiro, prendendola male, ho pensato porca miseria questo era un 3-0 assolutamente da fare, assolutamente da fare perché non so mi sentivo qualcosa dentro, ho detto oddio adesso non mi dire che vanno a fare il recupero, perché il Parma era già capitato in passato nella prima partita del campionato con Ludinese di farsi recuperare due gol e quindi ho detto oddio speriamo veramente di no anche perché a centrocampo, il centrocampo aveva retto più possibile però giocavamo con giocatori come Barillà e come Kucca che non erano assolutamente al meglio, anzi sono giocatori che praticamente si sono allenati quanto in due settimane, veramente pochissimo, maggiormente Barillà che aveva un problema fisico fino a mercoledì quindi avrà fatto un allenamento se va bene e quindi dovevamo reggere il più possibile. Nell'inserimento di Valotti e di Antenucci è cambiato tutto, è cambiato mentalmente la SPAL e a noi non è cambiato nulla perché in realtà li stavamo tenendo esattamente nello stesso modo, il problema è che questo gol voluto ovviamente da Valotti, anche un po' fortuito perché l'ha presa molto bene facendo anche palo gol, fatto sì che i ragazzi, i giocatori del Parma si siano veramente cagati sotto, ragazzi scusatemi il francesismo però si siano spaventati ed è una cosa che non deve assolutamente accadere quando sei una squadra che sta vincendo 2-0, sei sopra, sei in casa, sei in casa, sei giocando in casa, sei vincendo 2-0, sei stravincendo 2-0, e la partita in mano non ti puoi permettere di spaventarti perché loro riescono ad accorciare le distanze, cioè anzi dovresti sfruttare il fatto che loro adesso attaccheranno più non posso per partire in contropiede e fare male, è una cosa che probabilmente arriverà poi con l'esperienza in Serie A, ma comunque tu hai giocatori che hanno un'età media superiore ai 27 anni, sono giocatori di esperienza alla fine, hanno sempre giocato a calcio e spaventarti in questo modo è un grosso errore, è un grossissimo errore che non deve assolutamente accadere maggiormente quando giochi in casa. Il fatto è che ci sono stati un paio di errori difensivi perché sono stati due colpi di testa che hanno portato poi al pareggio della SPAL, è stato il colpo di testa di Valotti e quello di Petagna su due errori purtroppo di due difensori centrali che sono appunto Bastoni e Bruno Alves, e lì ci sono stati proprio degli errori singolo che hanno permesso alla SPAL di pareggiare questa partita, e veramente, maggiormente dopo il pareggio, come se ci avessero tagliato le gambe, come se la partita fosse finita per noi in quel pareggio, cioè non c'è stata una reazione come per dire calma ragazzi, hanno pareggiato, calmi tutti, possiamo comunque portarla a casa, possiamo comunque provare a vincerla questa partita. C'è stata l'occasione di Inglese, sull'ottima parata di Viviano, là magari Inglese secondo me poteva fare qualcosina di più, poteva fare un po' qualcosina di più, però c'è stata comunque una bella parata di Viviano, in quel momento il mister D'Aversa ha provato a reggere un pochino, a fare qualche cambio, già sul 2-1 aveva provato a mettere il 4-4-2, togliendo Barilla che non ne poteva più, e mettere Gazzola come esterno di centrocampo. Gazzola è un terzino, quindi praticamente ha messo Gazzola da una parte, Biabiani dall'altra, accorciati come se fossero a 6 in realtà in difesa, e provare a ripartire poi con eventualmente Gervigno e con Inglese e Biabiani. Ma il problema vero è che mancava il centrocampo ragazzi, i centrocampisti centrali non c'erano più, Kuchka era morto, Scozzarella aveva ricevuto anche nel primo tempo una bella botta e quindi non riusciva a correre in maniera perfetta, in panchina D'Aversa si girava, poteva vedere come centrocampisti, Dezzi che è stato infortunato da, sarà 9 mesi, prima dello Spezia, forse o nella partita di Spezia, è rotto, Munari idem da poco prima dello Spezia, chi altro c'era come centrocampista centrale che si era portato, nessun altro, non ce n'aveva più, perché Rigoni si è rotto e non l'ha portato, Stulac si è rotto nella scorsa partita e non l'ha portato, c'era Diacate, però Diacate, cioè ragazzi l'ha comprato ieri, non poteva metterlo in campo, l'aveva appena preso, magari anche lui aveva bisogno di un allenamento specifico, aveva, non aveva i minuti nelle gambe, insomma non poteva fare assolutamente nulla, cioè era anche con le mani completamente legate e forse però l'errore di D'Aversa, se così possiamo dare, comunque almeno un rimprovero, è stato quello di non togliere Biabiani che era ormai cotto da tantissimo tempo, provando a mettere magari un Silgardi che comunque l'esterno lo sa fare, era un po' più fresco, e provare comunque in un modo o nell'altro togliendo Kuczka e mettere un Munari o un Dezzi molto prima, gli avessi sul 2-2 a minuti ormai, cosa mancavano? 5 minuti alla fine della partita quando ha messo Munari dentro, quindi secondo me da quel frangente lì poteva fare qualcosina di più, maggiormente col fatto che Kuczka è stato, secondo me, lui che ha sbagliato, è stato diciamo l'errore per il terzo gol, perché ha sbagliato un passaggio, si è fatto recuperare palla perché ragazzi non ce la faceva più veramente, non ce la faceva più Kuczka, ha perso il pallone, si è fatto rubare palla, è partito il contropiede della spalla e poi nel batti e ribatti con la difesa sono riusciti a calciare da fuori e a segnare il gol del 3-2, della vittoria, incredibile della spalla, vittoria veramente assurda, brucia, brucia, brucia ancora tanto ragazzi, brucia ancora tanto, dopo un giorno brucia ancora tanto, io credo che adesso questa sconfitta sia abbastanza debilitante per lo spogliatoio più che altro, quindi è per questo che dovrebbero un attimino sperando di vedere questa partita non come qualcosa da buttarti giù, come per dire devi cacchio adesso hai perso e perdi anche la prossima perché giochi contro la Juventus e perderai anche quella dopo perché giochi contro l'Inter, no, deve essere appunto un modo per farti capire che la spalla era completamente spacciata e non aveva assolutamente la possibilità di recuperare questa partita, eppure ci hanno creduto, sono stati squadra, ci hanno creduto e l'hanno portata a casa con tutto il fatto che comunque contro di te erano spacciati e quindi adesso questa rabbia di aver perso questi tre punti dovresti buttarla addosso alla partita contro la Juventus che comunque abbiamo visto adesso la Juventus essere un po' in difficoltà, no, dal punto di vista fisico, abbiamo Bonucci che ad esempio ha rotto per un mese, già contro il Milan non sono stati un granché, contro la Lazio assolutamente hanno vinto ma non meritatamente, insomma quindi magari potresti riuscire ad uscire dallo Juventus Stadium almeno con un punto, però devi poterlo ovviamente avere la condizione fisica ma devi anche poter avere la condizione mentale per poter uscire dallo Juventus Stadium almeno con un punto, perché se entri in campo già sconfitto a te saludi come dicono a Milano, no? Cioè è una cosa che non ti puoi assolutamente permettere, anzi devi sfruttare questa rabbia della partita persa in questo modo contro la Spal per recuperare almeno un punto contro la Juventus, perché se recuperi un punto contro la Juve la partita con la Spal vuol dire che ti è servita qualcosa, ok? Ti è servita qualcosa. E poi il stesso discorso varrà poi in casa contro l'Inter. Il fatto è che sono più, penso più che potremmo ottenere un punto contro la Juventus che contro l'Inter, perché abbiamo visto che in casa noi facciamo fatica ragazzi, facciamo fatica. Non so per quale motivo in casa i nostri si cagano sotto mentre in trasferta danno l'anima. Non riesco a capire la sta cosa. Ripeto, è da veramente un sacco di tempo che non vedevo una squadra farsi recuperare in casa di tre gol. Posso capirla Roma, Atalanta-Roma, però giocavano in casa quelli dell'Atalanta. Il Parva che si fa recuperare dalla Spal con 300 tifosi al seguito. In casa tua? Boh, non lo so. Veramente per me è una cosa che brucia e che spero però possa portare veramente, possa essere da lezione. Possa essere una cosa da lezione per farti capire, bello, guarda che non è già vinta la partita. Anche se stai 2-0, manca un quarto d'ora, venti minuti, dagli è forte, dagli il terzo gol lo devi fare, Barillà, lì la segni. Inglese, più cinico quando arrivi lì, più cinico, segna, tiri in porta, segna. Gervigno, ti voglio più nell'azione offensiva, c'ho capito? Deve essere una cosa che ti possa portare poi in seguito a non sbagliare più, perché già contro l'Udinese nella partita d'andata ci siamo fatti recuperare. Questa è la seconda partita che ci facciamo recuperare. Basta, direi anche basta. Direi di iniziare un pochino a capire che se stai vincendo c'è un motivo e quindi devi avere quella malizia in più per tenerti il risultato e stop, senza aver paura di nulla, senza avere paura che ti possono recuperare, perché ti possono comunque recuperare, a prescindere anche, guardate Manchester United-Bayern-Monaco della finale del 99, cioè ti possono sempre comunque recuperare in qualsiasi momento, ma devi essere sempre concentrato che no, non ce la faranno, non ce la faranno e non ce la faranno. Speriamo che i giocatori del Parma abbiano imparato la lezione, speriamo che nella prossima partita possiamo dare il 100% e dare il massimo, sperando di avere anche un pochino di fortuna, magari contro la Juve, perché no, sarebbe una figata, ma la vedo dura, la vedo veramente dura. Fatemi sapere un commento qui sotto voi cosa ne pensate della partita di ieri sera, se l'avete vista, scrive ieri pomeriggio, se l'avete vista fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate, punto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille per aver visto questo video, un saluto, ciao da Papirius, vediamo se nel calciomercato nei trasferimenti ci saranno dei cambiamenti o meno che possano portare a modifiche importanti.